Erano giochi, giochi per bambini non amati e non curati, quelli che si trovano qui al campo della fiera a due passi dal centro a Teramo. Da ieri, approfittando della bella giornata, di una giornata festiva, i genitori e i residenti di questa zona hanno preso in mano la vernice, il pennello e hanno iniziato a ristrutturare i giochi. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La mucca? La rana? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto, che con i denti bunga, che molto spesso pianga. Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.